Consegnato ufficialmente a termo il cantiere per la ristrutturazione e l'adeguamento sismico della storica scuola San Giuseppe è danneggiata dal sisma del 2016. L'intervento affidato all'impresa vincitrice dell'appalto prevede un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro per restituire la città a un edificio scolastico sicuro e moderno, nel pieno rispetto delle normative antisismiche con impianti all'avanguardia. La San Giuseppe, cantiere ricostruzione che finalmente vede la luce dopo il lavoro di programmazione di questi anni, una programmazione che ci ha portato a sviluppare il processo di ricostruzione su tutte le scuole, su tutte le opere pubbliche in modo costante, permanente, senza fermarci mai. e questo ci porta oggi ad aprire questo cantiere dopo la chiusura e l'apertura della scuola di Villaripa, parallelamente a tutti gli altri interventi che stiamo portando avanti. Un intervento che ha visto il raddoppiamento del finanziamento iniziale, siamo arrivati ad 8 milioni di euro circa di finanziamento, che ha consentito di arrivare ad una riqualificazione complessiva della scuola, quindi non soltanto adeguamento strutturale, ma un adeguamento impiantistico, un adeguamento anche di tutte le strutture interne alla scuola, penso alla palestra e penso a tutte le altre aree che consentiranno veramente di restituire questo spazio importante alla città, parallelamente alla Savini, perché l'altro aspetto importante che poi è la scelta politica di fondo che abbiamo portato avanti è stata questa, cioè lasciare le scuole in centro e con la partenza del cantiere della Savini, che avrà il 14 novembre la conferenza dei servizi, le due scuole si muoveranno in parallelo e quindi verranno restituite alla comunità. Secondo il cronoprogramma i lavori dureranno 900 giorni e dovrebbero concludersi entro l'aprile 2027, anche se l'obiettivo dell'amministrazione è completare l'opera in anticipo rispetto alla scadenza prevista. L'obiettivo è quello di arrivare a ridurre al minimo i tempi, ovviamente necessari per la realizzazione dell'opera, con l'obiettivo di allineare le tempistiche delle due scuole.